ci siamo? ci siamo, ci sì, ci sì, oh là, si ricomincia esattamente come abbiamo chiuso ormai più di una settimana, quasi due settimane fa, giunti a questo punto la lunga assenza, la lunga assenza ci ha lasciati esattamente dove avevamo chiuso da soli, tendenzialmente, e sempre qua a Crystal Peak dunque, 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 bisogna andare a cercare di non morire tendenzialmente questo è lo scopo di tutto il gioco lo scopo è rimani vivo e nel farlo dobbiamo anche cercare di recuperare i nostri averi che in questo momento non mi ricordo a quanto ammontassero ora ok, forse non mi conviene passare di qua non sono così sicuro che passare di qua sia effettivamente una buona idea perché c'erano tutte quelle faccende di presse idrauliche ah, qua c'erano questi non mi piacciono questi non mi piacciono quindi direi che forse forse mi conviene tornare giù e fare la strada normale ora cercando magari di non morire nel processo ok, ok come non detto no, che stupido allora ricominciamo cerchiamo di non morire nel processo adesso però bisogna ricordarsi la strada qua ci sono i nostri cari amici Martel Koopa su di qua ma di qua c'è della roba come si arriva lì ah, di qua ah, vedi che storia intrigante intriguing e di qua dove si va? esattamente dove ero prima ha senso ok? ok sì, sì ci posso stare di lì si va esattamente dove siamo arrivati in tempi non sospetti cacchio ma c'è un muro voi non potreste tirare quegli affari fino qua stronzi ah, io non posso passarci di qua tra l'altro buono a sapersi ma come cacchio ha fatto col bimbo ciao Riccardo come andiamo? come la va? questi stronzi aia che picconata fortissima questi usano l'antica tecnica della scuola di cabobo ok direi che bisogna ma scusa eh di qua c'era qualche impedimento ad un certo sì, c'era la valle della morte mentre soffoco un rutto incredibile cerchiamo di raggiungere il nostro obiettivo cosa mi serve passare qua dalla valle dell'infinita perdizione ah, di qua? come ci si arriva? probabilmente dalla valle dell'infinita perdizione eh no e invece no eeeh vabbè non facciamo che va bene così eh stai pure lì come sto? sono un po' un po' ammalato come dire ho un po' di di tosse come la chiamano i giovani d'oggi fanculo aia che botta incredibile come la chiamano i giovani d'oggi ho la tosse per dirla nello slang dei boys ah, di qua c'è la morte così va bene, va bene non mi posso curare se no sti affari col cazzo che li ammazzo e ti ho fatto anche la ri aia che male del cazzo ok porca cazzozza porca cazzozza che male no 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 io qua ci muoio e niente è andata? è andata basta basta ok 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 e però sono senza vita ok un cazzo ok ho un po' più di vita e però non si può vivere a sto modo no mi raggiungerai a breve? stai anche tu per prenderti un malanno? pan culo ma perché sti cosi qua non eh niente sono morto io ma alpaca laser? eh non so non so ma quelli di colgu in che modo sembrano degli alpaca laser? scusami non sembrano alpaca fin dall'inizio allora il casino è che noi dobbiamo arrivare con più vita possibile lassù in cima cosa? ah beh sì in ritardo questa conversazione avrebbe avuto molto più cioè non in ritardo questa conversazione avrebbe avuto molto più senso aia però si potrebbe aprire un nuovo brand di ghiaccioli fatti di sangue di San Gennaro bisogna solo riesumare San Gennaro riuscire a togliergli più sangue possibile e poi è fatta abbiamo il nostro biz l'audio del gioco è bassissimo ok ho ascoltato le tue lamentele cacchio e ho sbagliato tutto nella mia vita ok e vediamo di alzare l'audio del gioco allora così è decisamente troppo meglio meglio o peggio secondo me va bene così comunque no così è decisamente troppo alto nelle mie orecchie ok così dovrebbe essere così ah no però così cambia solo così 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 ciao rebels come la va rebels come trascorrono le tue malate giornate no la manca eh vabbè dai adesso ho pure finito e niente eh vabbè come si fa come fa un uomo timorato di dio a superare questa parte e niente son morto basta è la fine bravo ribellini è così che si fa non si molla un cazzo e infatti sono morto di nuovo ma è pura follia questo questa parte qua quella è sempre un'ottima cosa quello è sempre sintomo di salute e e italianità è una cosa molto italiana no non volevo andare di qua assolutamente assolutamente dio è molto timorato di bleco e tutti dovremmo essere timorati di bleco ma perchè non salta bene ma perchè non salta ogni tanto ok che è ma siamo pazzi grazie rebels 8 mesi madonna 8 mesi sono un sacco di tempo rebels ma proprio sono più più di due più più di due e un po' meno di dieci grazie neanche io pensavo così tanto wow ho fatto davvero poche live in questi 8 mesi ad essere sincero ma perchè non dai le spadate che cazzi sali su sali su se siamo vero e invece sono sceso io allora direi di provare a passare qui dalla valle della morte e della perdizione eterna che male così abbiamo guadagnato un po' di soul matters abbiamo riempito la nostra pallozza delle anime così possiamo provare a colpire un po' di queste crystal ball ok non ce n'è stato bisogno per ora ma io che sono un uomo timorato di bleco che stupido errore che stupido errore cosa succede nella mia vita ma non è vero era già passato guarda a te a voler provare a dare le spadate a ste merde d'affari ma tu sei ancora qua ciò che l'è che erecti anche a te amico mio dico non si può andare e io sono morto bene bene benissimo ok non siamo non sono ancora morto ma lo sarò presto con ben 40 monete lo sarò presto e niente porca cazuzza eh io vado lì con una vita sola però porca zozza bene 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 e non mi disturba per nulla il fatto che io dovrò rifarmi tutta questa strada che non c'è nessun altro modo per arrivare lì 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 Grazie a tutti.